Riuscii miracolosamente a salvarmi e dopo alcuni anni di prigionia, mentre l'Italia era in regime di armistizio... Ora avrò l'onore di decorare di medaglia d'oro, al valor militare, tre uomini dei mezzi d'assalto navale, i soli superstiti del glorioso gruppo dell'Orsa Maggiore. Tenente di Vascello Luigi Silvani. Un momento, prego. Oggi sono il capo della missione Aleato d'Armistizio in Italia, ma un tempo ero il comandante della Corazzata che questo ufficiale ha affondato. È tale la mia ammirazione per l'eroica impresa, da lui compiuta, signor Ammiraglio, che sono a chiederle di cedermi l'onore di appuntargli personalmente la medaglia sul petto. Grazie. Signor Ammiraglio, la ringrazio. Le sue parole non onorano soltanto me, ma tutti coloro che mi hanno preceduto sulla via di queste imprese e che con il loro sacrificio hanno reso possibile la mia azione. Signor Ammiraglio, la ringrazio. Signor Ammiraglio, la ringrazio.